Lo stesso sesso o anche no, abbiamo visto passare le prime tre coppie che sono al comando mentre ora inseguono Alessandro Follador che avete visto tiene d'occhio la distanza del compagno di gara Alessandro Taufer mentre lo insegue Massimiliano Dionisi che sta gareggiando in questa gara bellunese insieme a Federico Biertel. Ecco allora Taufer che gareggia con Follador numero 6, ecco allora Federico Biertel che completa la coppia di gara insieme a Massimiliano Dionisi. Sono le posizioni di rincalzo alle prime, gara che avete visto dominata fin dalle prime fasi dalla coppia della forestale Fontana-Visinelli dalla coppia della OVAM Casa Grande dei Toss, c'è anche Pietro Piller-Cottler, l'avete visto, che gareggia con Andrea Rui questo rinfrescante guado mentre la nostra moto sta inseguendo in queste fasi la coppia Savaris-Ramping della Pedali di Marca che vedete sta tallonando in questo sentiero Pietro Piller-Cottler riconoscibile dalla casacca bianco-rossa ecco lo vedete in questa fase in cui stiamo sfilando questo terzetto tirato dal campione di sci di fondo. Sulla sinistra il biker Paolo Roccon che aspetta il compagno di gara Roberto De Zolt sempre per mantenere quella distanza ma anche perché come vedete la salita è decisamente impegnativa anche Massimiliano Dionisi ha dovuto scendere, poi risale, poi guado, decisamente dei passaggi molto impegnativi e guardate dove siamo finiti in che specie di paradiso terrestre con sempre le coppie di testa al momento immutate si sono ricompattate forestale ovvero Raffaele Visinelli, Alessandro Fontana, Ovam, Deitos, Casa Grande e dietro i tedeschi Wilschnig e Koch eccoli qua distanze piuttosto contenute tra le tre squadre che si stanno disputando la testa di questa gara con il numero 6A Alessandro Follador continua a gareggiare leggermente staccato dal compagno Alessandro Taufer eccolo qui e questo è Massimiliano Dionisi numero 5 sempre un qualche metro avanti rispetto al compagno di gara Federico Birtele con il numero 4 appunto vedevamo poc'anzi Paolo Roccon che gareggia con Roberto De Zolt i biker non sono ancora giunti a Malga-Silvella mentre procedono sincronizzati in coppia del missiere Chiavedale con il numero 25 Malga-Silvella dopo 10 km di gara con il numero 3 invece questi sono Savaris e Rampin che abbiamo visto poc'anzi eccoci allora che gli appassionati seguono con questo eccezionale colpo d'occhio la percorrenza dei biker lungo questa salita quota 2.068 metri costa Rigoglietto i biker però devono salire ancora in meno di 5 km di oltre 300 metri di altitudine con i biker della forestale a guidare Visinelli e il compagno di squadra Fontana acclamati in questo tratto dagli appassionati della montagna che si sono portati fin qui in questi luoghi davvero solitari ma incontaminati della Val Comelico quindi a seguire la coppia dei tedeschi quella punta che vedete sulla sinistra è il Monte Quaternà il Gran Premio della montagna è collocato lì quindi vedremo veramente una salita incredibile da parte dei biker con le nostre riprese anche sulla cima del monte solo 5 km da questo punto di ripresa al Monte Quaternà fasi davvero emozionanti in salita ora ci siamo portati a 300 metri dal Gran Premio della montagna Monte Quaternà a 2.379 metri di altitudine eccoci allora per vedere i biker come affronteranno questa aspra salita qualche problema per Rafael Visinelli in mezzo ai massi della montagna insieme al compagno Fontana i due crossisti forse un po' più specializzati nelle gare a circuito ora vedete scollinano in discesa li aspetta una lunghissima discesa così come è stata lunga anche la salita al Monte Quaternà scendono una discesa molto tecnica verso il Monte Spina e ora vedete che gli inseguitori sono scesi dalla bici e spingono i biker Michele Casagrande e Andrea Deitos insieme ai tedeschi Silvio Wilchnig e Georg Koch eccoli ora di nuovo in sella hanno affrontato il pezzo più ostico quello che li ha costretti a scendere dalla loro mountain bike e ora arrivano in cima un'occhiata da brivido sotto a Padola frazione del comune di Comelico Superiore anche i compagni di squadra Federico Birtele e Massimiliano Dionisi fanno il percorso con tecnica diversa chi resta in bici chi scende e spinge su perché davvero come vedete anche da questa immagine un fazzoletto di terreno permette di transitare in quota questo è anche il bello Grazie a tutti.